Giulia Costanza Maria Guarino è stata eletta baby sindaca della città di Caltanissetta. La dodicenne studentessa di seconda media del presso Cordova dell'Istituto Comprensivo Don Milani ha convinto dunque con il suo programma elettorale vincendo il ballottaggio. In due infatti avevano superato la prima tornata in cui ben 14 candidati si contendevano la carica di baby primo cittadino. Sono molto felice ed emozionata appunto per questo incarico. L'altra avversaria era anche molto qualificata però insieme anche agli altri miei assessori siamo riusciti a conquistare gli altri consiglieri. Ti piace il mondo della politica? Sì, diciamo di sì. Come mai hai scelto di candidarti? Più che altro così mi sono buttata e ho detto c'è questa opportunità vediamo fino a dove riesco ad arrivare. Io sono anche una persona molto competitiva in ciò che la vita mi propone e sarà una bella esperienza. Venerdì 25 febbraio dopo una lunga campagna elettorale arriva la proclamazione con la consegna della fascia tricolore ad accompagnare la studentessa e il professore Giancarlo Lacagnina. Soddisfazione anche da parte del dirigente scolastico Antonio Di Blio. Io andando faccio i complimenti a Giulia, ai genitori, al corpo insegnante e soprattutto mi auguro che possa dare un incremento alle idee che il Consiglio Comunale dei Grandi possa anche prendere in considerazione. Si conclude così una prima fase del progetto per la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che rappresenta una delle forme di partecipazione previste dall'apposito regolamento del Comune di Caltanissetta. È un punto di partenza per un percorso di educazione civica, sottolinea l'assessora Marcella Natale, per diventare cittadini attivi e partecipare alla vita politica. L'attività non si concluderà con l'esperienza elettorale ma proseguirà con i laboratori di cittadinanza attiva. Sono stati coinvolti dunque i giovani della città grazie ad un progetto promosso dall'assessora con la delega alla partecipazione Marcella Natale realizzato insieme all'Associazione Oikos con la collaborazione delle scuole e degli insegnanti. Impegno, passione e convinzione hanno reso possibile questo risultato. La proclamazione del baby sindaco, aggiunge Barbara Grillo, una delle tutor dell'Associazione Oikos guidata dal presidente Piero Cavaleri. Grande emozione, il progetto promuove la cittadinanza attiva, educare i ragazzi e le ragazze al confronto, al dialogo e all'impegno sociale per il bene della collettività. Possibilità di realizzare un percorso alla legalità e all'essere cittadini, conclude. Dovere morale che ciascun cittadino dovrebbe assumersi.